buongiorno a tutti la macchina è arrivata puntuale con ogni mattina e il latte anche oggi così e oggi mi hanno buido sul lataio torna roba non ce n'è il latte oggi anche lui ha girato a foto come faccio io e questo lo faccio per mia mamma per i miei fratelli e per la buon anima di mio padre Anzi